non solo così ma ti tiro e vado qui solo così ti tiro e vado qui e poi un pochettino alto dalla piegata quando vai io voglio finire un impulso così guarda un impulso ma un forno ma no 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 Grazie. 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 Scusate, non so che si può fare. Grazie. non deve come iniziare non c'è ma come a sembra non describo e quindi che guarda che vi adesso devi prendere l'unico frecci non deve avere anche il gamina il gamina e che vi poter o, vede? vede e è molto più azzucina guarda 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.